Buonasera a tutti qui da Milano Centro Congressi, è l'epilogo di Campus Party Italia, siamo con Claudio, il team XHSE ha giudicato ovviamente la call di Visa in cosa riguarda il vostro progetto e la vostra idea. Sì, Visa ci aveva brevemente chiesto di riuscire a trovare una soluzione al fatto che le persone quando viaggiano preferiscono pagare in contanti invece che utilizzare la carta. Abbiamo studiato varie soluzioni e la migliore è stata quella di creare una piattaforma di gioco per Visa dove gli utenti possono acquistare in determinate zone del mondo e conquistare dei territori come fossero in un gioco, come stessero giocando a risico. Tu di cosa ti sei occupato nel team e come lo avete organizzato in termini di competenze e skills di ognuno di voi? Ci siamo suddivisi in base alle nostre competenze sui vari progetti, quindi c'è chi si è occupato più di altri aspetti legati all'hardware e chi invece ha seguito più questa parte di progetto. Il mio compito era quello di presentare questo progetto quindi da la parte grafica e tutto il pitch fino proprio all'esposizione diretta. Quali saranno i prossimi passi del team? I miei prossimi passi saranno tornare a lavorare alla mia start-up e unirmi al party qui dietro. Mi sembra un ottimo auspicio, complimenti ai ragazzi e buon Campus Party per la cerimonia di chiusura. Grazie.